bene ragazzi siamo i granassi, oggi siamo tornati con una nuova sfida ogni gol daremo un morso di cipolla porca puttana quanto tanfa mentre entra il naso, adesso lo spiro sento solo quello le squadre saranno casuali quindi potrà capitare come l'altra volta Chelsea, Santos, Laguna, insomma però stavolta speriamo che non capita al contrario perché scusa eh, cioè 1, 2, 3 Spotting Given Yeo Nam Dragons Vabbè stai sono simili Dai che Sporting Geekon E tu come si chiama? Eh, Dragons Oh, guardalo Guardalo i Dragons I draghi I draghi coreani Mamma mia Mamma mia come giocano i draghi coreani Come giocano Che cazzo è vero? Mandalo Noi Oh, manda voi Che merdo Oh, è passato Oh, ah, l'incoglio di merda Che è? Ma che cazzo ne so, però sei l'incoglioni di questi Tu, giallo Così perché mi stai sul cazzo Oh, oh, lì in cui Ma che cazzo Ma che è? Ma che è? Ma che nome è in mezzo il cross? Non per nessuno Noi Noi Attacchiamo A parte che Cazzo Che non è noi ma è Ndi Ah, no, 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 vabbè, sì Ma, Ndi Ti incazzo Bello Bello L'hai visto partire? L'hai visto partire? Dimmi che corri? Dai, siete tutti coreani Porco due Questo non è coreano comunque L'unico Tira L'unico che è coreano Hai detto che è coreano Come si chiama coreano? non penso di una coreana vabbè coreano di una mamma non coreana di una mamma porca ma che cazzo dici ah questo parte bene si questo parte bene ordino ma sei guardato il pallone no vabbè porca madonna e che cazzo è sui gol bagna ma ma non ti metti in maniera ma stiamo a far rotto di john bel morso eh ma puoi senti tipo eh oh me dai quel coso puoi senti tipo me la murzicata ah la pizzica ah la pizzica no ah la pizzica ma quanto è peggio che il peperoncino pizzica davvero porca doia oddio che schifo dai dai gioca gioca ahahah mamma mia com'è la cipolla una merda e lacrime ahahah c'ho un nodo dove segniamo ma ahahah oddio che roba ma che cazzo stai a di ahahah ahahah oddio oddio oh no no che bu che bucio te culo oddio che bucio te culo oddio che bucio te culo oddio guarda che mongoloidi spastici di merda ahahah 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 insegni stronzo no cazzo fai vai di cazzo guardi oddio gliela hai data no ricorda l'hanno fuori con cui c'è vota mezzo col canzone sito sito ai parti 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 che parti a manetta parti a manetta parti a manetta parti a manetta oh a manetta devi parti stronzo bello oddio oddio che gioco grande landers vai subito l'hai visto l'hai visto vai mortacci tua mortacci tua questo lo faccio io no arrivaci no guarda il cristo ti lascio si oddio che bello fa for culo stai mangia pure l'ultimo no mi chieda un bel morso stronzo questa è quella non mozzicata vai 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 la stante apple morso come pa antonia senti che roba a piangentrì porno ricordo di alimento detto ma metterci metterci dai dai è nato questi cazzi gioca vai vai però ne devo fa n'altro mamma mia la sofferenza per fare un cazzo di collo con questi no no non per cazzo ci hai 3 minuti dai non c'è stan di sofferenza il segno io oddio che peggio peggio si dai oh non vale oh no dammi palla cazzo col cazzo proprio non è rigore non è rigore non è rigore lo devi sbagliare dai non è rigore al 90 ma fa qualcuno non c'è la rigore che cazzo mi sei buccato mi sei manco buttato questa di merda mamma mia cosa non è che ne ha l'ho e l'ho l'ho ahahah no no vabbè c'ho un pezzo in mezzo dai vuoi ancora pareggiare guarda come mozzica oddio ne mi d'altro oddio oddio non riesco a giocare con questa cosa in bocca finisce qui tutta la partita volta due corra al novantesimo e me lo sono meritato direi eh ma porco te sto giocare con i giovani dragons no ahahah mamma mia ahahah sta venendo da piani sta partita in pace puro ragazzi noi siamo malati ecco com'è la città tua noi non potevo più uscire da casa adesso comunque ragazzi questo video mi è cresciuto guarda in macchina ti gà ti fanno il palloncino peggio il palloncino comunque raga se vi è piaciuta questa sfida consigliateci qua sotto cosa vorreste vedere nel prossimo video ogni gol qualcosa ci beccamo al prossimo video ciao domani fa ciao 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 Back to life